Bella a tutti ragazzi con Orgasmic e sono qui a portarvi un nuovo episodio dei se fossero su FIFA 15 era da un po' che non portavo un episodio di questa serie ma comunque ho ripreso e ho ripreso alla grande con tre nuovissimi giocatori, come sempre due giocatori diciamo normali più una Legend Prediction quindi vi ringrazio per tutti i mi piace e soprattutto i commenti dei consigli dei giocatori che volete sapere nei prossimi episodi che io facessi nei prossimi episodi quindi continuate a farlo, lasciate un bel like e scrivetemi qualche giocatore anche giocatori non leggenda così almeno mi aiutate quindi cominciamo subito dal primo giocatore di oggi, conoscenza del nostro campionato cioè Daniele Verde Daniele Verde della Roma, forse uno dei pochi giocatori che mi avete consigliato e dovevo farlo assolutamente perché comunque ha giocato qualche partita in Serie A e mi interessava comunque anche a me Verde si presenta con questa carta qui che sono le sue vere statistiche di so FIFA che ho visto su so FIFA, infatti sono rimasto un po' male comunque cioè, vabbè non ha una grossa velocità però il resto delle statistiche vanno anche abbastanza bene è un 63 alla destra con 4 stelle piede debole, 2 stelle abilità che ovviamente penso sia un 96 quindi c'ha tempo per crescere e quindi ci auguriamo ovviamente che nei prossimi anni su FIFA sarà una carta sicuramente migliore quindi comunque lui quest'anno, giocando vabbè un po' tra primavera e un po' tra Serie A in Serie A ha fatto due assist, comunque complessivamente in 27 partite ha fatto 11 gol e 5 assist da Ala quindi devo dire che è davvero una buona buona media per questo giocatore appunto sperando che cresca nel migliore dei modi andiamo con il secondo giocatore di oggi, altro giocatore che qualcuno di voi mi ha richiesto cioè l'Ucraino Yarmolenko, appunto ucraino della Dynamo di Kiev Dynamo di Kiev che non è presente su Ultimate Team ma solamente lo Shakhtar del campionato ucraino si presenta con questa carta qui, secondo me è davvero devastante è un giocatore che io conosco poco a dir la verità però dalle varie prediction che sono state fatte o comunque da qualche indiscrezione più o meno la carta potrebbe essere questa qui ed è davvero una bella carta mi ricorda molto, non so se anche a voi, i danni dello Zenith però che gioca esterno di destra davvero una carta molto molto buona, ha un'ottima velocità, un ottimo dribbling, un ottimo tiro un ottimo passaggio e comunque un ottimo valore di fisico tra l'altro lui è alto 1,89 mi pare, quindi quasi 1,90 per un Ala con questa velocità direi che è molto buono gli ho messo 3 stelle piede debole e 4 stelle abilità perché ho visto qualche video e secondo me ci stanno e un po' di dati, quest'anno ha totalizzato in 31 partite 15 gol e 19 assist quindi anche essa ha una media veramente paurosa ma adesso ci concentriamo su la leggenda che avrete sentito nel titolo o comunque nella miniatura avrete visto stiamo parlando di Ronaldo ma non Cristiano bensì il fenomeno Ronaldo il fenomeno giocatore veramente che ha rivoluzionato in parte il mondo del calcio io quando penso a Ronaldo io lo ricolloco tra i vari Pelé e i vari Maradona perché questo è stato un giocatore veramente devastante io ho avuto la fortuna di vederlo giocare sia nel Milan vabbè, poi non era il vero Ronaldo nel Milan che nell'Inter e anche nel Real Madrid che sono stati i suoi anni migliori quindi davvero un giocatore devastante giocatore che ha vinto tutto tranne la Champions League però ha vinto due mondiali e una Coppa Intercontinentale e tantissimi altri trofei comunque questa sarebbe la sua carta di la sua leggenda la sua carta leggenda molto molto simile a quella di Pelé perché ha molte caratteristiche molto simili velocità pazzesca tiro pazzesco dribbling pazzesco ottimo passaggio fisico pazzesco 5 esterabilità 5 esterabilità debole questo giocatore è veramente divino devastante non ci sono neanche aggettivi per descriverlo andiamo invece a vedere qualche dato lui ha dei dati pazzeschi in tutta la sua carriera il suo rendimento è stato in 423 partite ufficiali ha totalizzato 277 gol e 38 assist quindi più di un gol ogni due partite che è una media veramente devastante per un attaccante come lui veramente mostruoso leggenda in tutti gli aspetti comunque raga io come sempre vi invito a lasciare un bel mi piace vediamo se riusciamo ad arrivare a 400 mi piace per questi giocatori soprattutto per il fenomeno vi invito a scrivermi nei commenti come vi dico sempre qualche giocatore da trattare nei prossimi episodi soprattutto tanto lo so che mi scrivete mille leggende ma anche giocatori normali come li chiamo io e iscrivetevi al canale pagina facebook twitter instagram tutti i link come sempre li trovate in descrizione noi ci vediamo al prossimo video bella raga